commento al vangelo per la solennità di pentecoste carissimi festeggiamo oggi il dono dello spirito lo spirito santo che è amore che unisce il padre il figlio e viceversa è il dio in noi che ci aiuta ci sostiene anche se a volte sembra che non ne percepiamo la presenza lo spirito santo è presenza che non ci abbandona mai ci torna la forza e il coraggio per affrontare le molteplici prove della vita è bello pensare alla nostra personale pentecoste nel giorno del battesimo anche su di noi è sceso il dono dello spirito santo che nella cresima ci ha confermati e ci ha inviati ad annunciare al mondo intero che dio è amore proprio per il fatto che tutti abbiamo un dono straordinario e particolare che ci rende divini impariamo a parlare pregare lo spirito santo impariamo a riconoscere questo soffio che ci aiuta a vivere alla sua presenza e da veri cristiani non facendo miracoli o chissà cosa ma semplicemente trasformando con l'aiuto dello spirito santo la nostra quotidiana ordinarietà in straordinaria quotidianità ci aiuti lo spirito santo che oggi celebriamo questo abbraccio di amore tra il padre il figlio e lo spirito santo guidi il nostro cammino illumini la nostra vita ci renda sempre di più discepoli dell'amore di dio buona domenica a tutti buona solennità della pentecoste